posizione piede esterno vi dico io quando partire via e 1 2 3 putta torna balassé 1 2 gira 5 6 e e passo croce passo chiudo passo croce passo chiudo 1 2 3 4 5 6 7 andiamo 1 2 3 putta 5 6 balassé 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 gira 5 6 7 8 e passo croce passo chiudo passo croce passo chiudo gira bravo claudio vieni a ballare con noi ora e poi 1 2 vai gabriel torna balassé balassé gira passo croce passo passo 1 2 gira 3 putta torna balassé